. Dove andate ? Vado a prendere dell'acqua per il ferito. Qui non si può passare. Ma sta molto male, ha la febbre. Fate presto. Non resisto più a questo freddo, a questa miseria. Mi sento impazzita. Calmatevi, ho tanta forza io che ho la mia famiglia in un altro campo. E' la te patera. . 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 Ancora!